Qualcuno mi conosco? Il signore non lo conosce Voti quasi unanimi Quasi si vede Bene, allora noi ci vediamo dopo e vi daremo un bel po' di tempo per fare i conti perché poi ci saranno le esibizioni mentre voi farete i conti e poi inizieremo la parte con le quattro grazie, a dopo Noi intanto ci portiamo a presentarvi l'undicesimo concorrente che si chiama Veronica un bello fiore, eccola qua bella applauso a Veronica anche te ti seguo ogni tanto su Facebook molti dei cantanti che sono qui sono anche amici miei su Facebook, quindi ogni tanto quando mettono le loro esibizioni, prendi il microfono quando mettono le loro esibizioni io ogni tanto vado a controllare se hai stonato, se hai fatto quella canzone bene, insomma, quindi vedo che siete sempre bravissimi comunque però non commenti tu questa volta canti una canzone dei Mattia Bazzar con però la cantante chi era la cantante a quel tempo? Silvia Mezzanotte e ci canti la canzone Messaggio d'amore a voi Veronica Bellofiore a voi Veronica Bellofiore Voglio darti un messaggio d'amore mezzanotte ho capito che forse l'errore non sei stato tu e con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più ho ascoltato il rumore, il silenzio, l'are nel tempo ho sognato il tuo viso e i tuoi occhi sorridermi un po' quanta notte per i tuoi occhi e non mi ha aduse mai mtna mezzanotte e non mi ha adustato mai Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. Che male fa non sentirsi più, sia quel che sia, questo messaggio da me e me. gotcha